Oh, eccoci qua per un altro Robby 6 Hardcore Henry, un film che non ho ancora capito se sia un film o un videogioco vediamo com'è, c'ho un po' di gaso ma sono un po' indeciso non sono sicuro che cosa sia, sembro un po' terminato La gnocca, chi è? Il clone di Jennifer Lawrence? Sant'oddio, uguale! Oh, gli incastra il polso! Vultana che schifo! Vultana si è squizzato ma se dici squeeze mi incaso un po' io, bionda Sesso è virtuale, santo Dio Il dito in bocca, vai Cazzo, tutto in prima persona Abbiamo anche Robby! Abbiamo ossigenato con i cigli ossigenati Puttano, il vomito Guarda che slap che danno Stai casando un po' sta cosa dalle prime persone Guarda la slap! Guarda la slap! Ma no, non le sento! Sato Dio! Non fate male alla tipa! Io ho un mal di schiena a vedere sto trailer Ma la charlito! Non parla! Bravi furivi che non parla! Seguimento! Super tecnologia! Ah, sono sabre! Guarda la slap! Vai grande! Spaga la porta! Arm, vacca! No, hanno catturato la tipa! Puttano, si si cazza a Henry! Quali i culini? Ma chi che sei? Senti qua! Senti l'arte! L'arte della cinematografia Puttana, che caso? Puttana, sei immersivo a sto trailer Puttano! Eh! Che cosa è ce... Fu... Oh, cavigliacchi, slab che bello! E questo che è? Oh, vai tranquillo, buttano sui cicliere! No! Guarda! Tanas sono Dominic Toretto! Dagliene! Dai! Chi è questo? Tanas sono un po' da slapio! Oh ciccio! Dammi lo skate! E questo chi è? E se mi sento figo! Vu... 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 Sant'addio! Vigliacchi! Ma cos'è questo treno? Ma cos'è questa lana qui? Vigliacchi! Sono più stanco oggi che quando ho fatto la maratonina di New York! Vigliacchi! Vigliacchi! Massacrato! Eh... Adesso vado a fare un po' una sessione di stretching! Oh, bella voi! Mi raccomando! Ci vediamo alla prossima! Sant'addio! Al cinema! A vedere il core Harry! Vigliacchi! Fantastico! 4 Placca! 5 4 4 5 6 Grazie.